Saluto a tutti amici miei, continuo la progettazione del mio strumento musicale midi, ibrido tra chitarra elettrica e basso elettrico, ibrido nel senso che posso configurarlo sia come chitarra elettrica, parlando di diteggiatura, logicamente di accordatura, sia come basso elettrico. Soluzione questa che si raggiunge con poco a livello di scherzo perché la differenza oltre alle ottave diverse, tra chitarra elettrica e basso elettrico, se prendiamo in situazione i due strumenti a sei corde c'è la chitarra che è accordata in un modo diverso rispetto al basso elettrico, che fa tutto per quarte, per quanto riguarda gli intervalli tra una corda dell'altro. Ma il problema mio iniziale, che mi ha fermato per un po' di tempo, qual era? Praticamente, se facciamo dei calcoli, come esempio, in questo strumento io voglio tenere minimo due ottave ogni corda, quindi due ottave sarebbero due per dodici semitoni e se voglio fare tutto questo per sei corde, io mi ritrovo a dover fare 144 rilevazioni, nel senso che mi servirebbero 144 pin digitali da configurare come ingresso e rilevare questi 144 tasti per i 144 note, che poi sarebbero quelle che ci sarebbero su questo mio strumento ipotetico. Nel caso specifico guardo io non è pensabile più niente, ma se vediamo anche latenza E dove io baserò tutto questo ragionamento, questo discorso, se guardiamo il datasheet della tenza 64.1, i pin purtroppo che posso configurare sono, nel caso specifico, nella parte superiore sarebbero circa, insomma, una quarantina, perché poi alcuni servono per altre cose, sono 41. Sotto, nella parte inferiore di testa, ci sono alcuni altri pin configurabili digitali, ma lì si fa scomodo a connetterli, quindi io proverò a usare solo questi qua, diciamo, sulla parte superiore della tenza 4.1. ma anche parlando di tenze, non ce la faremo mai a mettere praticamente i 144 tasti oppure connettori, connessi alle 144, connessi che ci servirebbe per fare in modo da rilevare tutte le note delle corde. Allora, che cosa ho fatto? Ho pensato addirittura ai multiplex, che sono questi. Praticamente sono degli accessori che con delle operazioni, con un cord che con delle operazioni logiche, che cosa fanno? Con pochi pin si levano, tramite lo sketch fatto apposta, le posizioni. Ma pochi pin significa in questo caso che comunque servirebbero 1, 2, 3, 4 e il pin di lavoro, dove poi viene configurato il tutto. Ma montare i multiplexer significherebbe o montarli nel manico, perché sono piccolini, o addirittura portarli tutti in un corpo che deve contenere tutta l'elettronica e pensate un po', questo è a 16, se mi voglio fermare a 12, praticamente dovrei montare 4, sarebbero sempre, sono 2 per corda, avesse 12 di questi accessori con sempre 144 connessioni che vanno verso l'alto del manico e che sarebbe un disastro, perché 144 connettori per rilevare i semitoni sulle corde sarebbe una fordina. e sono rimasto lì fermo per un po' di tempo a pensare alla soluzione. Come avrei potuto risolvere il problema? La soluzione mi è venuta perché è molto molto semplice. Praticamente che cosa ho fatto? Anziché configurare dei pin a livello digitale, mi sono appoggiato su un pin analogico di Arduino, nel caso specifico, però pensate che tutto questo verrà fatto, basandosi sulla Tensei che è più veloce, l'Arduino viaggia a 16 MHz, la Tensei 4.1, non mi ricordo a che velocità, mi sembra sui 600 MHz, vediamo un po'... chissà se ciò dicano così... Tensi 4.1, tensi 4.1, tensi 4.1, tensi 4.1. Insomma, dovrebbe piacciare sui 600 MHz, vediamo un po'... vabbè comunque rispetto rispetto a Arduino è tutta un'altra storia anche perché con tutti questi ragionamenti che deve fare lo sketch della rivelazione di 144 posizioni o sui pin sarebbe un disastro e quindi ci sarebbe una latenza sicuramente e quindi ci sarebbero dei ritardi che nella musica sono assolutamente sconsigliabili nel caso specifico ho fatto questa soluzione questa breadboard contiene la soluzione per una sola ottava per una sola corda quindi immaginate tutto questo ragionamento per una sola corda e una sola ottava quindi sono 12 semitoni io con il solo pin A1 analogico posso fare il modo da controllare tutti i led le uscite quelle che vedete che vanno sui led con la resistenza logicamente in serie da 220 ohm sono uscite che le ho prese solo per vedere il funzionamento e un controllo a me i led non è che mi interessano più di tutto solo che facendo questo sketch con thing card ho dovuto per forza mettere questi led per vedere se tutto funziona correttamente altrimenti la simulazione mi avrebbe fatto capire se non dalla diciamo dalla seriale dal monitor seriale quindi come avviene la situazione queste resistenze qui non prendiamole in considerazione sono quelle in serie abbiamo detto i led e sulle varie uscite che si attivano vanno a livello alto per accendere i led logicamente qui invece c'è semplicemente una serie di resistenze che le ho calcolate praticamente le ho calcolate potrei addirittura fare in modo che da 12 semitone far funzionare tutto questo lambaradano su un solo pin analogico per due semitone per due praticamente ottave quindi per 24 semitone mi sono limitato a uno soltanto perché se funziona uno dovrebbe funzionare anche la soluzione con 24 semitone quindi con due ottave e quindi addirittura mi servirebbero meno connessioni con questo facciamo un calcolo diverso mentre che nella soluzione iniziale ci vorrebbero 144 connessioni in questa soluzione mia fatto con 12 semitoni ogni pin analogico praticamente se facciamo che mi serve un solo pin analogico logicamente ogni corda due ottave quindi due pin analogico per sei già le cose cambiano parecchio perché avrei bisogno di 12 pin analogico per gestire tutto con la tenza i4.1 e dato che io ho tanti pin analogici configurabili che sono questi qua me ne rimane pure qualcuno poi che mi servirebbe sicuramente per la dinamica perché se io uso 1,2,3 facciamo 9 10,11 e 12 che mi serve poi 1,2,3,4 e 5 sarebbero pochi per fare in modo poi di dare la dinamica alle 6 corde e quindi anche qui mi sono fermato con i pin analogico non ce l'avrei fatto e che cosa ho pensato ho pensato di ampliare questo mio calcolo delle resistenze e fare in modo che ogni pin quindi immaginatelo adesso diversa la breadboard successiva ogni pin analogico gestirà 2 ottave quindi ogni corda un pin per 6 e praticamente io con 6 pin analogici riesco a gestire tutto lo strumento poi dopo vi faccio vedere come funziona e come è scritto lo sketch e questo lo posso fare tranquillamente perché sulla tenza io ho 1, 2, 3, 4, 5 facciamo fino a 6 qui io già da questa posizione avrei risolto tutto il problema della mano sinistra della parte che mi serve per rilevare le note sui 24 tasti di semitoni praticamente corta per corta per tutte le 6 corde ok avrei risolto tutto con questi 6 pin analogici ok la parte rimanente logicamente mi servirà per dare l'inviluppo poi e la dinamica perché questo strumento deve essere diciamo pesato come le tastiere pesate deve avere una dinamica che praticamente è un mio sistema ce l'ho in testa sta dinamica sto pensando a un sistema elettronico che sinceramente ragazzi non l'ho trovato in rete quindi non c'è perché l'ho cercato dappertutto questo sistema se mi funziona deve dare la dinamica separatamente dalle note ok delle corde logicamente delle 6 corde nel caso lo faccio a 6 corde o addirittura verrà gestito con un break control scusatemi per la pronuncia ma sarebbe un sensore a soffio quelli che servono per gli strumenti musicali verrà gestito poi la parte sinistra logicamente con la parte destra perché insomma verrà fatto in questo modo e in più la dinamica è diciamo il volume della nota l'attacco verrà gestito anche in qualche modo se voglio logicamente dalla configurazione dal break control dal fiato va come fosse uno strumento a fiato ok quindi questa soluzione mi ha risolto tutti i problemi e vi faccio vedere come funziona qui ci sono delle resistenze in serie e man mano che vado avanti nelle resistenze logicamente c'è il tastino che mi va a creare una chiusura in questo caso verso il negativo ok mentre questa resistenza diciamo di pollop e qui anche mi ricorreggo correggetemi se faccio se diciamo non pronuncio bene questi termini in inglese questa resistenza mantiene praticamente una resistenza da 47 kOhm mantiene a livello alto il pin analogico perché è configurato sul positivo e man mano che io vado a premere il tastino si mettono in serie queste resistenze che sono molto sono tutte uguali praticamente sono delle resistenze da da 4 da 4 kOhm ok man mano che premo i tasti c'è la variazione di tensione sul pin e quest'idea praticamente che non è mia logicamente è stata già fatta mi risolverò il problema e mi risolverò il problema delle 24 note sulla corda vi faccio vedere lo scherzo come funziona praticamente ci sono delle condizioni qui e anche qui questo è il reset dei led ho dovuto usare una soluzione sul pin analogico a 1 perché praticamente mi erano finite per dare la conferma all'accensione dei led con tutte le uscite digitali in questo caso configurate come output che sono questi che vanno ad alimentare i led logicamente in serie ho messo la resistenza in serie da 220 ohm per alimentare i led altrimenti puff ho dovuto usare per il reset dei led una soluzione sempre analogica con delle condizioni quindi lo scherzo funziona in questo modo ci sono praticamente l'ingresso analogico dell'analog pin funziona su a 1 l'analog pin 1 funziona su a 0 funziona su pin a 1 ok ci sono delle dichiarazioni di questa variabile val 0 uguale a 0 e int uguale a val 1 uguale a 0 lo stesso che sono queste qua dei due pin che vengono poi assegnate dopo alla lettura dei due pin praticamente qui vado a configurare tutti i pin che se vedete da 2 a 13 sono 12 pin gli dico quali sono e come devono essere configurati logicamente in questo caso come output perché devono accendere solo i led e qui ci faccio la condizione per spegnerli i led e lo faccio sempre appoggiando come vi ho detto su una soluzione analogica potevo prendere un input digitale ma purtroppo non c'era e quindi mi sono appoggiato con un anche qui ho fatto ho messo una resistenza che mi porta a questo livello a 0 sempre agendo sul negativo mi porta questo pin di A2 A1 me lo porta verso lo 0 quindi me lo mantiene a 0 ma quando poi premo il tastino logicamente il cortocircuito maggiore della resistenza che lo tiene a 0 lo fa passare in modo alto e quindi mi da una lettura diversa del valore analogico che entra qua dentro ok ho fatto così perché mi piaceva comunque configurarlo anche in analogico per provare anche gli ingressi analogici usati in questo modo quindi il reset dei led è semplicissimo quando da 0 il valore passa a questo a 1023 premendo il tastino logicamente portando a livello alto il pin gli vado a dire che tutti i led devono stare a livello basso tutte le uscite queste qua che alimentano i led come funziona? è semplice a ogni pulsante che premo praticamente si crea una serie diversa una somma diversa delle resistenze in serie quindi logicamente varia il valore sul sul pin analogico questi valori letti dopo logicamente ci darò dei range perché potrebbe non essere sempre sempre sullo strumento per esempio questo valore con questo numero logicamente darò dei piccoli range in modo che sono sicuro che quando premo quel tasto io sto parlando di quella nota ok dando logicamente nelle condizioni tutti i valori rilevati dalle posizioni dei tasti ho la possibilità praticamente di fare in modo di accendere quel determinato led ok quindi io so che se prendo in considerazione l'ultimo led che è questo qua sulla sinistra lo vado a premere con la serie che viene fuori che sarebbe la somma di tutte le resistenze io vado a leggere questo valore ok sul pin A0 leggendo questo valore se il valore è quello logicamente io gli dico che il pin 13 deve passare dal livello basso al livello alto e deve rimanere così nel senso che non gli ho dato lo spegnimento dopo proprio perché voglio vedere alla fine di leggere tutto niente tutto questo viene assegnato a un viene assegnato praticamente la lettura viene assegnata a dei valori ok il pin praticamente 0 nella nella in questa variabile praticamente viene assegnato il valore della lettura su val che è quella che agisce sul pin analogico a 0 e su val 1 viene assegnata la lettura analogica praticamente di questo pin a 1 sempre analogico poi niente nel monitor seriale verranno praticamente stampati tutti e due i valori solo come fatto di controllo insomma vediamo come funziona parliamo sempre di 12 semitone su un solo pin analogico lasciate perdere e dimenticate tutte le uscite per alimentare i led tutto il controllo io lo sto facendo su un solo pin che è questo ok quindi avvio la simulazione ad esempio se premo vedete si accende il led se premo questo si accende quest'altro led qualsiasi tasto io premo logicamente lo sketch va a leggere il valore in base alla serie delle resistenze che poi vengono viene composte dalla serie diversificata in base al tasto che premo io posso accendere tutti i led ok e logicamente il reset di tutti i led l'ho fatto perché il primo non si accende il problema c'hai vabbè dopo lo andiamo a controllare c'è qualcosa nello sketch ok quindi che cosa accade adesso ci sono tutti i led accesi i led accesi ma se vedete il secondo valore questo qui sullo 0 è il valore di val 1 questo 1023 attualmente è il valore che sta leggendo l'input analogico A0 che è quello che ci interessa a noi questo qui che sta ancora a 0 è praticamente quello che sta leggendo è val 1 che viene assegnato che legge la lettura della resistenza di pull up che sta praticamente sul tastino sull'ingresso e viene portato se voi lo vedete viene portato sul negativo e quindi lo mantiene al negativo quindi quello che sto leggendo sul monitor serial quel 0 che sto leggendo è quello che praticamente appartiene al ingresso analogico A1 ok quando io premo il tastino va a finire a 1023 il valore e con questa condizione gli dico che deve spegnere tutti i led vediamo se funziona sono tutte accesse tranne questo devo capire perché non si accende dopo lo capiamo qui stai bene qui stai bene qui che cosa ti manca qui ti manca questo che ce l'hai vabbè c'è un problema sullo scherzo ok quindi premendo su reset dovrebbero spegnersi ok si sospenti beh queste immaginate che ricalcolando tutte le resistenze che in questo caso sono da 4k io posso addirittura duplicare i tasti di controllo su un solo su un solo pin analogico e tengo la possibilità di poter gestire 144 note con soli 6 pin analogici logicamente ragioniamo di 106 4.1 e non di arduino perchè con le velocità non ci siamo ripeto arduino sembra che stia sui 16 mhz mentre che la 106 non mi ricordo la 3.6 sembrava stare o la 4 sembra stare sui 600 mhz quindi stiamo parlando di due accessori completamente diversi questi qua non dovrebbero portare delle latenze e questo qua si ok quindi vado avanti con la soluzione dopo questa soluzione che mi funziona bene direi proverò poi la dinamica che devo fare degli esperimenti per capire bene la dinamica che ho in testa a livello elettronico con la mano destra perchè qua stiamo parlando in tutto questo ragionamento parliamo sempre delle corde della mano sinistra della rivelazione delle posizioni sulla mano sinistra un saluto a tutti e speriamo che insomma riusciamo a fare sta cosa a tutti Grazie a tutti